Mario Landolfi Davide Maggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che saranno Nicola Savino e Belen Rodriguez i conduttori della trasmissione in onda nelle notti magiche, ai noi senza l'Italia, in Russia, si legge sul portale.Shek e Fabio Fazio quando avevo cose importanti da dire sui diritti civili un programma che poteva ospitarmi in prima volta. La prima serata non lo ha fatto. Ora sono in promozione con un successo sofferto, mi vuole attorno ad un tavolo con altri ospiti a parlare di cose che magari neppure mi interessano, ha risposto il cantante al conduttore.Marco Ferri se dovessero essere gay tutti gli uomini a cui ho fatto i grattini dovrebbe essere gay in mezza Italia, ha risposto Jonathan Tashenian in merito al suo rapporto con Ferri nel corso. Grazie a tutti.